gentili telespettatori buona giornata lo stato di emergenza fa sapere il governo verrà prorogato fino a marzo del 2022 stanno discutendo di questo e la probabilità è molto alta il governo è pronto ad un nuovo stato di emergenza se ce ne sarà la necessità e con la curva dei contagi in risalita il green pass è fondamentale così il ministro della salute roberto speranza intervenuto a mezz'ora in più sul rai 3 sulla questione dopo che da giorni si registra una ripresa del contagio da covid lo stato di emergenza in italia potrebbe quindi essere prorogato anche nel 2022 sia lo stato di emergenza sia il green pass scadono il 31 di dicembre del 2021 si era parlato di fine gennaio invece è 31 di dicembre il ministro ha ribadito che il certificato verde ci consente di tenere aperti tutti i luoghi della socializzazione della cultura i ristoranti le scuole e le università in un quadro epidemiologico diverso faremo naturalmente tutte le ipotesi necessarie e tutte le valutazioni mentre lo stato di emergenza l'ipotesi al momento è una proroga fino al marzo 2022 ma che cosa succede con la proroga dello stato di emergenza e nel caso in cui il governo dovesse sospenderlo anche perché si diceva che non poteva essere prorogato oltre due anni che cosa significa lo stato di emergenza prima di vedere le varie ipotesi dobbiamo capire che cos'è lo stato di emergenza è una misura adottata dal governo straordinaria che viene deliberata dal cdm il consiglio dei ministri su proposta del capo del governo ed intesa con i governatori cioè con i presidenti delle regioni e i presidenti delle province autonome interessate in genere viene disposto al verificarsi di eventi eccezionali alluvioni catastrofi naturali la durata dello stato di emergenza nazionale come previsto dall'articolo 24 del decletto legislativo 1 barra 2008 non può superare i 12 mesi ed è prorogabile per non più di ulteriori 12 mesi a meno di interventi legislativi sarebbe possibile stenderlo solo fino al 31 gennaio 2022 però a meno di interventi legislativi cioè interventi legislativi se di fare leggi ma come funziona questo stato di emergenza con lo stato di emergenza vengono autorizzate misure eccezionali ad esempio le ordinanze della protezione civile pensate per poter agire con urgenza e con poteri straordinari per tutelare i cittadini si possono inoltre attuare interventi speciali con ordinanze in deroga alle disposizioni di legge rispettando i principi generali dell'ordinamento giuridico con la dichiarazione dello stato di emergenza che attualmente scade il prossimo 31 dicembre vengono poi snellite le procedure di approvazione di leggi e decreti voi sapete che con lo stato di emergenza il presidente del consiglio può ricorrere ai dpcm decreti del presidente del consiglio dei ministri sono dei decreti che non devono ricevere l'approvazione parlamentare e neanche quelle dei ministri può farla direttamente solo il capo del governo e firmarla lui vengono anche disposte con lo stato di emergenza misure sanitarie come l'obbligo delle mascherine all'aperto o il distanziamento sociale ed è semplificato anche il ricorso al lavoro agile quel lavoro da casa o da altri luoghi per le aziende che ruolo hanno le regioni in nello stato di emergenza durante lo stato di emergenza le regioni possono continuare a firmare ordinanze regionali ma devono consegnare le linee guida al governo e dunque in funzione la cosiddetta cabina di regia alla quale partecipano i presidenti di regione introdotto il 31 gennaio 2020 dal presidente del consiglio giuseppe conte lo stato di emergenza è stato prorogato più volte le ultime due proroghe sono state decise ad aprile e a luglio del 2021 dal premier mario draghi come sottolineato in precedenza a quasi due anni dalla prima emanazione non si potrebbe però procedere a una nuova proroga senza fare prima un passaggio parlamentare un passaggio parlamentare nel caso in cui il prossimo 31 di dicembre non venisse prorogato lo stato di emergenza sarebbero diversi i cambiamenti per i cittadini in primo luogo terminerebbero le loro funzioni gli organismi creati per far fronte alla pandemia ossia decade il commissario straordinario decade il comitato tecnico scientifico istituito il 5 febbraio 2020 con ordinanza del ministero della salute i lavoratori dovrebbero poi negoziare accordi individuali sullo smart working lo stato d'emergenza consente infatti sia ai dipendenti pubblici sia quelli privati di ricorrere al lavoro da remoto derogando ad accordi sindacali o individuali con l'azienda se si tornerà la situazione ordinaria le norme che regolano il lavoro da casa dovranno essere riviste e per i viaggi che cosa succede venuto meno lo stato di emergenza cambierebbero anche le regole per i viaggi all'estero e dall'estero lo stato di emergenza consente infatti al governo di prendere provvedimenti in grado di restringere l'ingresso nel paese da parte dei cittadini di altri stati ma anche di limitare il turismo verso paesi esteri considerati a rischio pandemia nel prossimo video vedremo il governo cosa sta decidendo anche sul green pass la certificazione verde grazie a tutti per avermi ascoltato ci vediamo tra una ventina di minuti per un altro video qui sul canale ricordatevi che l'iscrizione è gratuita e nella community trovate anche sondaggi ai quali poter partecipare e commentare mentre c'è anche l'altro canale tele italia seconda rete dove ci sono video di politica ma non solo grazie nuovamente per avermi ascoltato ci vediamo se volete tra poco per un altro video poi su facebook e questi video vengono caricati dopo qualche ora arrivederci a tutti